Grazie per avermi eletto presidente! Grazie a tutti! Newton, abbiamo un regalo per te! Sei così speciale! Papà, eccolo lì! Newton, non sono sicuro che tu sia pronto per una corona! Cittadini, votate per me! Cosa? Pronto? Sto perdendo voti! Newton salva la situazione! Wow, Newton deve essere il presidente! Vogliamo Newton! Spostati, proteggo il presidente! Ti darò da mangiare! Ecco il tuo cibo preferito! Questo problema dovrebbe essere risolto immediatamente! No, papà! Non sono i tuoi cereali? Troppo tardi! Scusa, Newton! Sono il tuo più grande fan! È fantastico! Tonto! Newton! Posso stringere la tua zampa? Che maleducato! Non muoverti! Ti capro io! Ehi, sei la mia guardia del corpo! Non più! Vuole dire qualcosa? È Newton! Newton, come ci si sente ad essere il primo presidente cane? Il presidente sta facendo un discorso! Ringrazia i cittadini per la loro fiducia e svela la sua faccia sul Monte Rushmore! Wow! Newton è fantastico! Quel cane sta vivendo la mia vita! Sono qui per Newton! Aspetta! Cos'è quello? Il pranzo! Newton non ha mangiato nulla! Devo controllare! Che schifo! Non è avvelenato! Entra! Pranzo per il presidente! Signor presidente! Abbiamo bisogno della sua firma! Non vuole firmare? Beh, ok! Queste carte sono meglio! Continua a non firmare? Ah, non mi sono spiegato bene! Ecco! Bravo! Il discorso di capodanno del presidente! L'anno prossimo avrete gli ossi gratis e nuovi grandi parchi per fare passeggiate! E ci sarà un'altra città costruita per i gatti! Non ti arrabbiare! Sarai il prossimo presidente! Il presidente e la sua famiglia sono venuti oggi a una mostra unica! La grande collezione di capolavori ha impressionato tutti! Anche questi visitatori di gran classe! È un tale onore essere qui! Wow! Incredibile! Newton, guarda! È così bello! L'amore di Newton lo sta guardando dalla tela! È la Mona Julie! Facciamo una passeggiata! Ciao, vicina! Esci anche tu! Julie ama stare fuori! È davvero lei! È sempre stata lì! Newton, che succede? Un anello di fidanzamento? È per Julie! E lei dice di sì! Oh, è un lieto fine! Questa è la cerimonia di apertura dell'aeroporto intitolato a Newton! Signor presidente, tagli il nastro! Newton è felice! Giocare con il nastro è la sua cosa preferita! Wow! Il nostro presidente è il migliore! Non preoccuparti, sto arrivando! Ferma! La nuova regola dice che non si può entrare in un negozio con un umano! Oh! Newton, comprati del cibo per cani! Non avere fretta! La gente non può entrare! Buon pomeriggio! Contanti o carta? Eh, contanti! Davvero? Queste vecchie banconote non sono valide! Accettiamo solo contanti nuovi per cani! Cosa? È tutta colpa di quel cane! Sono qui per il presidente! Aspetta! Il presidente non riceve visite! No! Cosa? Non ha funzionato! Una pizza per il presidente! Fermo! Lascia la pizza! Ecco i soldi! Ma volevo consegnarla personalmente! Non oggi, amico! Salve! Sono l'allenatore del presidente! Non può perdere un allenamento! Oggi lavoreremo sul tono muscolare! Ecco! Alza il volume! E ora facciamolo insieme! Seguitemi! Ha funzionato! Oh no! Sono qui! Cosa c'è di nuovo su TikTok? Papà! Davvero? È ora di svelare la verità! Il nostro presidente non è un cane! È un gatto! Papà! Con chi stai parlando? Come vuoi! Newton sta leggendo le notizie! E purtroppo non c'è niente di buono! La gente non è contenta del nuovo presidente! Un pop-it dovrebbe funzionare! No! Il miglior rimedio contro lo stress è un buon sonno! Oh sì! Sono un pop-it! Posso calmare chiunque! Spero che risponda! Newton! Ciao! Mi sei mancato! Come stai? Ma Newton sta andando davvero male! I suoi haters sono qui! Arrivo subito! Presidente! Se ne vada! Non possiamo trattenerli per molto! Corri! Aprite! Sfondiamo la porta! Dov'è il presidente? Prendetelo! Come faccio a distrarre la guardia? Una palla? Ha funzionato! Newton! Sono qui! Ferma! Il presidente è occupato! Ma non è Newton! È un cartone! Allarme rosso! Il presidente è sparito! Trovatelo subito! Sai dov'è Newton? Anche i giochi non sono più divertenti! Il giocattolo di Newton! Non c'è molto da scegliere! Cosa? Ti piace questa camicia? Wow! Ottima scelta! Proviamola! Calza come un guanto! Oh! Mi manchi così tanto! Newton! Giochiamo a nascondino! Io conto! Tu ti nascondi! Uno! Due! Ora ti cerco! Ma dove può essere? Nell'armadietto! Non è qui! Forse è nell'altra stanza! La tenda si sta muovendo! Preso! Ops! Ciao papà! Non c'è pace da nessuna parte! Newton! Ti ho trovato! Ora è il tuo turno! Io mi nascondo! Devo trovare un posto segreto! Il frigorifero! Ops! Ma sei già qui! Sei così astuto! Cosa stai facendo? Sono affamata! Un limone? Orribile! Ciao! Che c'è? Voglio vedere il presidente! Nessun incontro! Farò finta di essere una giornalista! Buon pomeriggio! Sono qui per un'intervista! C'è una giornalista che vuole vederla! Niente giornalisti oggi! Una nuova guardia! Ciao collega! Possiamo scambiarci i turni oggi! Finalmente! Ha funzionato! Newton amico! Ti ho portato un osso! Non ti piace? Che ne dici di uno d'oro? No di nuovo! Ora che ne pensi? Ecco! Molto meglio! Chi è il cane più forte? Grazie per avermi eletto presidente! Cosa? Ups! Scusi! Non riesco a liberarmi dall'abbagliare! Ecco i documenti! Grazie a tutti! Sì!